Good morning Milano, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti, 7 e 14, mercoledì 11 settembre 2024, siamo qua pronti a partire con una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre in diretta su Crystal Radio, ma questa mattina non sono solo, ho quasi, come dire, potremmo chiamarlo quasi un fratello? Non siamo soli nell'universo. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Vai, Ambrogio Curti! Ciao, ciao, ciao! Avevo iniziato con la Bluesmobile. Eh sì, sì, siamo come loro questa mattina. Gli occhiali da sole li ho, infatti, chi ci sta seguendo in questo momento su YouTube può vedere che hai anche gli occhiali da sole. È un effetto un po' particolare perché non vedo niente, assolutamente niente. Penso che anche Jack e Delwood Blues non vedessero molto durante... Assolutamente. Buongiorno! 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 Allora, Ambrogio, come stai? Bene, bene, molto bene. E i nostri ascoltatori cosa hanno fatto quest'estate, se non c'eri? Ce lo racconteranno, credo, al 331-7853-555. Ambrogio Curti, per quei pochi distratti che non lo sapessero, è il conduttore e ideatore Deus Ex Machina di Senti Questa, che arriva appunto dopo di noi tutti i giorni, giusto? Dopo di voi, sì, esattamente. E quindi io non ho mai smesso quest'estate. No, infatti sono grandi tutta l'estate, esattamente. Ho proceduto, ho proceduto, ho processo. Tutta l'estate con la grande musica l'hai raccontata, poi tu racconti tessimi aneddoti, spieghi un po' quello che c'è tra le righe, tra le note dei vari artisti di cui racconti. Perfettamente, anche per far scoprire cose che non sapevo neanche io. Ma insomma, adesso poi ce lo racconterai meglio durante questa trasmissione, durante questa puntata, durante questa mattinata, che poi appunto sta per arrivare la nuova stagione di Senti Questa. Ma adesso arriva lui, il boss, il boss con Born in the USA. Bruce Springsteen, Born in the USA. Ed ecco qui, quando a un certo punto sembra che sta per finire, invece poi riparte in questo riff. Poi è una caratteristica sua anche dal vivo, continua, continua. Continua, questa qui è un po' la sua ejude, no? Sì. Che non finisce, può portarla avanti per ore e la gente non direbbe nulla. Assolutamente, poi questo brano ha un pathos incredibile. Io ho avuto l'occasione di sentirlo... Di suonare insieme a Bruce Springsteen? Sì, 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 il triangolo. Il triangolo no, che dopo... Sì, 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 infatti. Di sentire questo brano alla Maratona di New York. È una cosa incredibile, perché alla Maratona di New York suonano... Lungo il percorso ci sono complessi bravissimi che suonano tutto il repertorio tipico americano. E in Central Park, all'arrivo, io non ero un... Mi stavo preparando questa domanda, infatti. Mi stavo preparando questa domanda. Ero un osservatore. Però è stato emozionante, perché a Central Park, che aspettano i miei amici che stavano facendo la Maratona, a un certo punto... Li bravi. Esatto. Quando, appunto, entrano in Central Park c'è questa mega orchestra, una specie di The Blues Brothers Band, che suona tutte queste canzoni qua. Cosa incredibile. Molto bella. Hai fatto bene a citare New York, perché oggi, ovviamente, è l'11 settembre, quindi non possiamo non ricordare. La canzone, infatti, l'ho voluta mettere un po', anche, insomma, così, per fare un ponte con gli Stati Uniti, un ponte con New York. Anzi, anche tu poi ci stai raccontando di questa esperienza alla Maratona di New York, ma non hai pensato poi di fare anche la Maratona? Assolutamente no. Quello è il giorno in cui hai deciso che tra la Maratona e la musica hai scelto la musica. Assolutamente, la musica l'avevo scelta, ma soprattutto ho deciso di che non farò mai una Maratona. Quando vedi la Maratona decidi o la fai anche te oppure non la farai mai. Anche perché vedi delle scene incredibili all'arrivo, per uno che non sa come funziona il tutto, gente che sta male, gente che si fa trascinare. In realtà tu però una Maratona la fai ormai da anni, da mesi, perché insomma questo senti questa non si ferma mai. Senti questa è una trasmissione un po' maratona, come dici tu, ma soprattutto è un approfondimento mio al quale faccio partecipare anche gli ascoltatori, perché io facendo le ricerche sui brani che propongo imparo delle cose, apprendo cose che ai tempi, negli anni, quando ero piccino, negli anni 70, non avendo la possibilità, c'era internet ovviamente, ma c'era anche poca possibilità di informazione. Adesso saltano fuori tutti gli altarini, le curiosità, le cose. Allora sguazzo in queste cose e le ripropongo, anche perché c'è bisogno di far vedere un po' com'era il panorama musicale italiano in quel periodo di grande creatività, che è fine anni 60, anni 70, e sembra sparito completamente quel mood, quella atmosfera. Ieri ho mandato in onda Milano-Vincenzo, che racconta proprio di come Fortis ha scritturato la case escografica, messo in panchina però, perché facevano così, scritturavano, poi ti metterlo lì così, lui diceva no, io voglio farlo. Adesso invece, anzi, ti vengono a raccattare sui social, ti fanno fare un brano e poi non è detto che te ne faccia fare un secondo. Sì, soprattutto prima c'era una gavetta, c'era addirittura suonavi per strada, eccetera, 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 pochi erano infortunati che arrivavano, però che arrivava, un nome per tutti, Lucio Battisti, ecco, per dire. Beh, gli ultimi che hanno suonato per strada che sono arrivati, Maneskin, loro hanno iniziato suonando per strada, così dicono. Ho avuto anche l'onore di vederli, non sapendo che erano loro. Ieri mi è venuto invece qui Cecilia Riemer, che anche lei è una ragazza qui di Milano che suona per strada, beh, gli facciamo l'augurio che appunto, suonando per strada, qualcuno si accorga di lei e gli dia lo spazio. Piazza Piemonte, l'ho vista. Bravissima, proprio lì, proprio lì, proprio lì. Olly, Angie Lamango con una delle ultime canzoni del duo, giusto? Beh, mi confermi, infatti queste sono le hit che mettiamo, Ambrogio. Lamango. Lamango. Allora, a me non era molto simpatica quando è uscita, poi invece sui social, lo vedo con sua mamma in macchina, fanno un po' di cinema, un po' di… e adesso mi è abbastanza simpatica. E mi sembra una bella tosta soprattutto, cioè bella, giovanissima, io alla sua età credo mi mettesse in quello di tre del naso, cosa che faccio anche da fuori onda adesso. Non solo, ma lei invece è veramente già fatta, cavolo. Tutti i giovani oggi, tutti i giovani sono avanti, ma avanti anni luce. Ogni riferimento a Beatrice in regia è puramente casuale. Esatto, più che salutiamo. Beatrice che facevo il conto, ad esempio noi prima parlavamo dell'11 settembre, Beatrice tu non eri neanche nata quando è successo l'11 settembre. No, davvero? Sì. Perché stavo chiedendo… Adesso ti dico una cosa… Cosa stai facendo l'11 settembre? Niente. Ma è un'aria… Soprattutto non c'era qua… Tu, Ambrogio, hai fatto il muro di Berlino. Assolutamente sì. Poi, l'armistizio. No, l'armistizio no. No, magari no. No, vabbè, diciamo che ero piccino, purtroppo io sono nato negli anni 60, purtroppo, meno male, ecco, da un certo punto di vista, però purtroppo ho visto cose, ho partecipato, sono stato contemporaneo a eventi negativi, gli anni di piomba, eccetera. Dopodiché ci sono stati anche gli eventi positivi. Però noi ci ricordiamo sempre… l'essere umano tende a ricordarsi solo quelli negativi. Purtroppo sì. Per me è quello. Però noi ricordiamo… oggi non possiamo ricordarlo… Tu hai visto la nascita di Vasco Rossi, musicalmente parlando hai visto la nascita di Vasco Rossi. Sì, sì, sì. Addirittura non era proprio nessuno. Non era proprio nessuno. Abbiamo visto Renato Zero. Renato Zero. Parlando in ambito italiano. Perché Vasco Rossi non era italiano. Sì, no, no. Parlando… Stavo per dire che… No, volevo capire se… Vasco Rossi. Infatti volevo capire se… No, i Beatles. I Beatles che io non ho vissuto… Io no. Perché sono nato proprio… avevo otto anni quando hanno finito. Te l'hanno fatto opposto. Dico, arriva Brogio, dai sciogliamoci. Esatto. L'ha detto io. Ioco ha detto di scioglierci. Era più liofilizzata la cosa. Cioè c'era un gruppo, tutti avanti con sto gruppo. Beh sì. Poi hanno cominciato a inflazionarsi con gli anni Ottanta. C'erano più di uno, due, tre, cinque, sei gruppi e poi… Spandau, Duran Duran. Sì, sì, sì. Quelli lì erano i clou. Ma poi c'era tutto un entourage. C'erano tutti quelli con il ciuffone. Sì, assolutamente. E quelli che mettevano il sax nelle canzoni. Sax. Cioè, la cosa del sax… Anni Ottanta c'è il sax. Sax ovunque. La tromba invece, anni Sessanta. Poi c'è stata una ripresa, soprattutto nella disco, usata negli anni Duemila. Però il sax era anni Ottanta. Anni Ottanta. Quella roba lì, quando senti un sax capisci come l'epoca musicale. Anche nelle playlist quelle che si propone. Come sentire un clavicemmo nella musica medievale. Cioè, il concetto è lo stesso, no? Molto, molto, diciamo, spensierato il sax. Ah, vedi, ecco. C'era bisogno di quello. Beh, erano gli anni dove c'era bisogno di essere. Penso che qualcuno si sia messo a studiarlo ai tempi, solo che è difficile studiare il sax. Perché incomincia a vibrarti, perché c'è una piccola lancia, ti vibra tutto il labbro inferiore e dopo non riesci ad andare avanti. È una cosa incredibile suonare il sassofio. Io ho provato, ma praticamente… Mi porto una volta con la tromba, ma so che è leggermente diversa. Lì è proprio il discorso di fare pernacchie, di fare pernacchie con la bocca. Tipo Paolo Conte. Ecco, perché imparare a suonare la tromba quando puoi avere Ambrogio Curti… Che tromba in diretta. No, ma no! No, che tromba in diretta, che fa la tromba in diretta. Sono le sette e mezza del mattino. Che tromba, che fa la tromba in diretta. Vabbè, facciamo una cosa, mandiamo gli Abba, che rendono tutti sicuramente più felice. Vulevu, che non è quella lì, Vulevu. Non è quella lì, non è quella lì. Renato Zero con il triangolo alle 7.41 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano. Il triangolo che c'è tra me, Ambrogio Curti e i nostri ascoltatori. Assolutamente, è un pentagono, un esagono, un… Tetraedro, un ennagono. Un ennagono. Un ennagono. E queste erano le canzoni trasgressive di quei periodi, diciamo negli anni 70. Erano quelle che mandavano fuori di testa la Rai, che non sapeva come fare. Infatti, ricordiamo, mi ha ricordato il mio carissimo amico Emilio, che ci sta ascoltando, che ho vissuto le radio libere, nascevano le radio libere. E ora ci lavori su, su una radio libere. Esatto. Diciamoci che Crystal Radio è forse l'ultima delle radio libere esistenti. Penso di sì, perché è nata negli anni 80, ma negli anni 70 pendavamo proprio… Eravamo con la bava alla bocca, alla radio con l'orecchio fisso, perché per noi era internet, era whatsapp, era tutto. E quando mettevano queste canzoni, che la Rai non metteva, chiaramente era un momento anche di trasgressione, di rivincita, non so di cosa possiamo definirla questa atmosfera. Comunque è bellissima. Di sentirsi insieme. Sì, insieme è sempre da scoprire, insomma. Allora, ringrazio che ci stai scrivendo i whatsapp, chiedo scusa, perché abbiamo un piccolo problema tecnico sul computer dei whatsapp. Allora c'è qualcuno che mi ha scritto, mi dici, ma scordami, vuoi leggere i whatsapp che ti sto mandando da due giorni? Alcuni arrivano, alcuni no. Abbiamo un problema. Che bello, il problema tecnico, tipico delle radio libere. In settimana vado a sistemare sto computer benedetto su cui abbiamo i whatsapp e lo mettiamo a posto. E quindi, grazie ad Alberto che ci scrive, dice un saluto a Fabio, a Ambrogio e in un bocca al lupo, a tutte le ragazze e i ragazzi che oggi iniziano la scuola. Sì, perché tra oggi e domani iniziano, giusto? Io lo sapevo domani, le superiori credo iniziano domani, oggi le medie hanno già iniziato. In realtà ieri qualcuno ha già iniziato, anche ieri, insomma, tutto un po' così. E è un problema vostro! Non nostro, giusto. Poi Adriana, che lamentava il fatto di me, vuoi leggere i messaggi che ti mando? Scusa, sono tra quelli che non sono arrivati. Che dice però, che musica frizzante questa mattina. Renatone a prima mattina e tanti cuori, credo per Renatone, soprattutto. Sì, 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 assolutamente. E stavo dicendo, appunto, che tra le canzoni di Renato Zero, un po' trasgressive, c'era anche Baratto. E questa non la conosco. Baratto la faremo ascoltare. L'ho già fatta ascoltare in Senti Questa. Un testo molto intenso. e parla del Baratto, proprio. E negli anni 70, insomma, Baratto, ma a livello umano. Ah! Sì, sì, sì. È una cosa molto, molto particolare che avremo modo di sentire sulle nostre frequenze. Senti Questa esiste proprio per questo, proprio per questo motivo. Cioè, far sentire, magari, di Renato Zero conosciamo 3.000 canzoni, quella magari non la conosciamo. Esatto. Tu la vai a scovare, la vai a raccogliere, la vai a raccontare. La rispolvero, possiamo dire. Possiamo dire la rispolvero e cerco di sviscerare quello che magari negli anni addietro non si sapeva. E può rinascere. Del resto, certe operazioni sono state fatte anche da DJ attuali che hanno preso vecchie canzoni e le hanno fatte rivivere in maniera dance. Però, ecco, io le faccio rivivere facendole riascoltare e soprattutto spiegando un po' quello che volevano dire nel testo. Perché Renato Zero, tanta roba. Tanta roba. Tanta roba. Anche perché i testi di una volta non erano poi così espliciti. C'erano una volta dei giri di parole. Sì, giustamente. Dei volipindarici per cercare di… Non sono come la musica trap che è molto esplicita. Non sono. Cioè, pensa, la prossima che va, Tony F e Gaia. Il titolo, Sesso e Samba, sembra un impensabile. Esatto. Tra l'altro… Già Samba non andava bene. Soprattutto mi viene in mente un'immagine. Fare il trenino e fare Sesso. No, vabbè, vabbè. Sono sempre le 7.40 del mattino. Tony F e Gaia, Sesso e Samba. Scusa, al mattino queste canzoni. Cioè, sono bellissime, sono stupende, mi piacciono tantissimo. Però, allora… Stavo pensando come si sapeva… Sì, sono… Ma sai che i ragazzi adesso questa qui, al posto di Cristina D'Avena, l'ascoltano? No, ma è l'orario. No, è l'orario. Eh, stanno andando a scuola, per il primo giorno di scuola. Stanno andando a scuola, per il primo giorno di scuola e ascoltano questa roba qua, capito? Perché non sono così. Sesso e Samba che, se fosse stato il 65, sarebbe stato, non so, Coccole liscio? Coccole, sì. Cosa così, come sarebbe stato? Sì, e Sesso, droga, a parte la droga, rock and roll, eccetera. Sì, è una… Sì, beh, ci sta. È l'ora, è l'ora più che altro. Non sono neanche le 8. Cosa ci aspetta nella nuova stagione di Senti Questa? Allora, un po' l'ho anticipato, nel senso che farò molto a più musica italiana. Ok. Quindi cercherò su, diciamo, un 80% di musica italiana, soprattutto nel periodo 65, 75, fine anni 70. Ok. Riscoprire i cantautori, o comunque gli autori che Battisti si può considerare un cantautore, anche se in realtà i testi li scriveva Mogol. Però, diciamo, di tutto il periodo che va proprio dalla influenza della musica internazionale americana, soprattutto, in quella italiana, dove i cantanti inglesi venivano in Italia e cantavano in italiano. Cioè, abbiamo fiori di nome, a parte Sanremo, ma ci sono proprio collaborazioni incredibili. Gli Hollis che cantavano con Mino Reitano, cioè cose… ecco, tutto questo, diciamo, clima… Cioè, Fedez con la Bertè non si è inventato niente, mi stai dicendo? No. C'era già questa cosa? Fedez dovrebbe cantare con i Rolling Stones, cose che, peraltro, i Morning Skin più o meno hanno fatto. Però, diciamo, stiamo vivendo tutto questo periodo in senti questa, cercherò di farlo rivivere e quindi molta più musica italiana, un po' meno straniera, che comunque rimane sempre un punto fisso, soprattutto quella inglese, che mi piace molto. Questa è una sintesi musica, quella lì, italiana, di quegli anni lì, che sta tornando anche… perché adesso non so se hai visto la nuova operazione della canzone di Ornella Vanoni, Sant'Allegria. L'ha rifatto il remix, sta spaccando su TikTok, è un trend. Questa è una dimostrazione che comunque quelle che erano le voci, i protagonisti, che Ornella Vanoni ha più di 80 anni. Quindi stiamo parlando di cantanti dell'epoca che si sono svecchiati da un punto di vista musicale, però quando c'è la qualità rimane la qualità e si sente. Quindi, a parte il discorso dell'autotune, eccetera, che un po' sta entrando anche tra i cantanti che cantano bene, però non hanno magari più questa gran voce, quindi può dare un aiutino. Però, diciamo, quel periodo con quei cantanti, che purtroppo anagraficamente molti non ci sono più, però quelli che sono rimasti si vede, insomma, il fatto della qualità che riemerge, ed è giusto, una cantante, una professionista come Ornella Vanoni, che si rimette in gioco e fa conoscere un po' quello stile, perché rimane comunque lo stile, cioè è tutto svecchiato, però rimane assolutamente. C'è una voce, io l'ho sentito, adesso poi, anche Umberto Tozzi, tra l'altro, che ho visto in concerto poco tempo fa, anche lui uscirà con nuove canzoni. Grazie allora, Maggio, anche per questa dritta. Emi McDonald, dal 2007, This Is The Life, ti piacere, eh? Il video, stupendo, con le galline, c'erano le galline nel video, penso un po'. Ambrose, se mi arriva la fine. Io ti ringrazio per avermi invitato qua in questo bellissimo studio, che tra l'altro mi invito, venite qua, assolutamente, fate la coda, entrate, è bellissimo, cioè sembra di essere a Las Vegas. Va bene, non ci sono le slot machine. Bellissimo, è stupendo. Ti ringrazio, mi raccomando, appuntamento, senti questa. I giorni, da lunedì a venerdì, alle nove, dalle nove, nove cinque, fino alle dieci. Perfetto. Grazie mille, Ambrose Curti, ci sentiamo presto allora. Ciao a tutti. Sempre qui su Cristal Radio. Ciao, ciao. Andiamo avanti con la musica, e poi giornale radio, e poi torniamo qui con voi, perché stanno arrivando altri ospiti. Adesso, Outcast con EIA. E questo era il Crystal History delle otto, gli America con Heroes with no name. 8 e 10 minuti, mercoledì 11 settembre, sempre qui su Crystal Radio, in diretta, su GFM96.2, Dub Plus, ma anche sulla nostra app per iOS Android, ma anche sul sito internet. Insomma, sapete che se per caso vi siete persi qualcosa, poi c'è anche goodmorning.milano.it, dove andare a riascoltare e rivedere tutto quello che volete. Poi c'è Spotify, insomma, lo sapete, ma è inutile che ve lo ripeto tutte le mattine. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, il nostro numero di WhatsApp, con i problemi tecnici del WhatsApp, quindi se non vi leggiamo, abbiate pietà questa mattina, arrivano un messaggio sì e dieci no, quindi prometto che nel pomeriggio cercherò di capire cosa è successo al nostro WhatsApp di redazione. Ma appunto, diamo invece il benvenuto, perché non sono qui da solo, sono arrivati con noi ospiti qui in studio, a Malita Modena. Buongiorno. Buongiorno. E Fabio Vergottini. Buongiorno. Buongiorno. Che ho avuto il piacere appunto di chiacchiare un attimino con voi fuori l'onda prima di entrare e vi ho chiesto che cosa usiamo come, così, di lascalia e presentazione del vostro nome. Malita è coordinatrice della Rete Lavoro del Municipio 5. Sì, esatto. E fin qua, tutto bene. E Vergottini, lei mi ha detto professione agitatore sociale, già questo è un po' più complicata. Ma sì, perché mi sono inventato una professione che mi facesse divertire, sono arrivato quasi alla pensione e ha detto adesso mi diverto. Agitatore è un po' come quelle cose precedenti, cioè chi agita ma che può dall'agitazione anche creare cose positive, giustamente. Dal caos nasce tutto. Eh, infatti, ecco. Ecco, ecco. Allora, siamo qui perché parliamo di una bella iniziativa che appunto c'è sul territorio del Municipio 5, dove, è bello vedere queste cose, dove finalmente appunto le istituzioni, le associazioni, i privati, così, riescono a fare quella che ogni tanto abusiamo, usiamo la parola sinergia, no? Che la usiamo un po' troppo a volte. In questo caso ha funzionato bene invece. E che cosa è nato? Chi vuole appunto raccontarmi un po' questo progetto che state portando avanti? Sì, direi che ha funzionato molto bene perché noi abbiamo creato una rete collaborante sul territorio che unisce gli spunti, la creatività, le esigenze che vengono presentate da persone come Fabio, quindi che conoscono molto bene la realtà, con l'insieme delle cooperative sociali, delle associazioni, dei servizi sociali che esistono nell'ambito del Municipio. Perché noi crediamo fermamente che per risolvere le problematiche, e in particolare quelle del lavoro, bisogna essere molto coerenti, molto presenti nel territorio. Noi crediamo che bisogna sempre partire da quelle che sono le esigenze e le realtà del territorio. Il territorio del Municipio 5 che ricordiamo un attimino, per chi ci sente dagli altri otto municipi, dove... Diciamo che parte da Piazza 24 Maggio, si irradia sul Vigentino e verso il Naviglio e arriva fino a Chiesa Rossa. Quindi è un territorio molto interessante perché è estremamente poliedrico, perché parte da una zona semicentrale, arriva a Grattosoglio, quindi arriva alla periferia e arriva anche a territori agricoli. In base a questo è anche un terreno estremamente interessante per la sperimentazione delle tematiche relative al lavoro. Perché partiamo dalla ristorazione, ad esempio, che è il settore su cui abbiamo lavorato con Fabio, andiamo all'agricoltura, andiamo all'artigianato, ma andiamo anche alla grande impresa. Perché sappiamo che nell'ambito della parte di Porta Romana stanno nascendo dei poli molto importanti di grandi aziende. Quindi è un territorio che in piccolo, sono circa 125 mila abitanti, rappresenta tutta la varietà. Chiamiamolo piccolo, Marita. Un comune lombardo. Esatto. Bisogna dire che i nove municipi di Milano sono ciascuno una media città del territorio, quindi è così la realtà. E quindi come appunto media città ha tutte delle problematiche, però anche delle opportunità, no? Credo giusto Fabio? Ma io direi che, allora, mi sono incontrato con la grande disponibilità del municipio 5. Io, come si capisce dal mio agitatore sociale, sono un po' anarchico e ho un po' difficoltà ad essere inquadrato anche con tutto ciò. A me piace essere molto pratico. Intanto è dalle difficoltà che nascono le opportunità e quindi quando uno già mi definisce Gattosoglio periferia mi si rizza la testa. Gattosoglio è un quartiere che se io parto da Gattosoglio è centralissimo e quindi è il Duomo che è periferico. Tanto perché capiamo le differenze così come sono. Allora, si parte dai bisogni reali. Io mi sono trovato con Napa, che è questa associazione dei ristoratori sul Naviglio Sud. Si vuol fare il Naviglio Slovio dicendo. Napa, Naviglio Pavese. Naviglio Pavese, esatto. L'ultimo tratto del Naviglio Pavese, lungo la ciclabile, l'avento che hanno appena fatto. Mi sono trovato a vedere due cose molto divertenti sotto alcuni aspetti. I ristoratori che avevano difficoltà a trovare personale, soprattutto dopo il Covid, perché molti dei ragazzi espulsi dalla città non sono più rientrati perché sappiamo che la nostra è una città difficile, complicata, costi alti, quindi spesso gli stipendi non coprono neanche, e qui bisognerebbe parlare molto, anche gli affitti delle case. Si avrebbe un grande capitolo. Esatto. E trovare invece dei ragazzi, per esempio, di questa comunità di Grattosoglio, Oklahoma, che magari minori, non accompagnati, che hanno bisogno di entrare nel mondo del lavoro. Non ho fatto che un match e unire le due cose, formare i ragazzi. Fortunatamente ho trovato il municipio che mi ha ascoltato e questa iniziativa che ha sistemato nel piccolo, perché bisogna fare le cose piccole già tra i ragazzini in un anno, ha preso una certa visione un pochino più ampia. E allora questa visione me la raccontate, voglio sapere anche di questi tre ragazzini, come dici tu, le storie, ma questa visione me la raccontate fra pochissimo, subito dopo, la prossima canzone. Ve la siete ascoltata mentre navigavate sul Naviglio Pavese questa? Ci poteva stare, no? Un po'? Una navigata, non mi ha pensato, ascoltando Blue Strait Shoes come se fossimo sul Mississippi, quasi. Esatto. Peccato che non si naviga. Eh, infatti, anzi, non si naviga e non si balla. Non si naviga e non si balla. Non fate stupidaggi che dopo ci vengono a prendere a noi, eh? Quindi, mi raccomando, parliamo del Municipio 5 perché, appunto, questa iniziativa di avviamento al lavoro, ma non solo, perché la cosa interessante è quella, non è solo l'avviamento al lavoro, è tanto di più, no? È molto di più perché noi crediamo formamente che c'è un binomio imprescindibile e inscindibile, che è quello della formazione e del lavoro. che è estremamente importante. Uno dei grandi motivi per cui poi alla fine si parla di mismatch o comunque di mancanza di incontro tra la domanda e l'offerta è che la formazione non è orientata a quelle che sono le professioni e, da questo punto di vista, quindi, chi cerca non trova poi le competenze che sono necessarie. Quindi noi abbiamo un substrato che è quello del territorio, al quale ci rifacciamo sempre il riferimento e abbiamo creato questo circuito operoso tra chi fa formazione e chi poi deve inserire queste persone lavorativamente. Come diceva Fabio, ci siamo in primis orientati ai giovani, giovani che sono giovani immigrati, sono giovani sia di immigrazione recente che meno recente, sono ragazzi che molto spesso sono confusi rispetto al mondo del lavoro. Non dimentichiamo che oggi molti giovani non si sanno orientare molto bene anche dopo la scuola, abbandonano la scuola, abbandonano la formazione. E quindi noi abbiamo creato questi corsi, grazie ai fondi della garanzia occupabilità lavoratori, per piccoli gruppi, come diceva Fabio prima, quindi piccoli gruppi di ragazzi che hanno fatto la formazione, la formazione per addetto di sala, utilizzando i corsi di formazione della Galdus, ma sono stati poi, grazie a Fabio e quindi grazie all'accompagnamento di Fabio, inseriti lavorativamente nelle realtà del territorio. Dicevamo, fino adesso tre, quest'anno, che uno si vede i numeri così, dice, ma sembrano pochi, però già abbiamo capito che, attenzione, qui c'è un accompagnamento veramente quasi mano a mano, nel senso, li accompagni fisicamente proprio. Tre con contratti regolari di lavoro sono stati fatti da NAP, adesso ne sono altri fatti altri due con questo tipo, quindi siamo già a cinque. Però, ribadisco, a me piacciono i piccoli numeri, io credo che quando si fanno le cose in piccolo, ognuno fa delle cose in piccolo, si fanno tante cose delle grandi, ma soprattutto sono controllate, perché poi sappiamo quando diventano troppo grandi come la mente umana scassa. Posso dire, ne ho fatti cento all'inizio anno, adesso ne sono rimasti solo due, no, invece qui... Ecco, mi piace raccontare, per esempio, di qualche ragazzo, perché poi dobbiamo anche personalizzare. Per esempio, Amin, che io ho trovato nel mio percorso, gli ho fatto la scuola di italiano, non sapeva parlare italiano, era arrivato dalla Tunisia, scappando su un gommone, e mi ricordo sempre il suo primo tema, che quando mi ha raccontato questa attraversata, che a me veniva una pelle d'occa, lui mi ha raccontata come se fosse la festival crociere o una cosa. E infatti io gli dissi, nel primo rapporto con lui, mi dice, voto, mi ha scritto, gli ho detto, italiano 4 al 5, composizione, che ti ammazza a te, perché raccontava con gioia questa cosa che se l'avessi raccontata con mia figlia, mi veniva da piangere a me a leggere per dire questa cosa. E Amin ha fatto il suo percorso, ci ha creduto, ha fatto il suo percorso, grazie all'inizio con una promozione di Don Gino Rigoldi, ha fatto un percorso di cucina, sono riuscito a metterlo un po' protetto in un ristorante dove io collaboro. Però anche gli stessi cuochi che stavano dentro hanno cominciato a relazionarsi con lui, a capire che il mondo era diverso, che c'era delle difficoltà. E devo dire che voglio solo raccontare questo particolare, che una settimana fa ho visto Amin, che era ritornato dalla Tunisia per la prima volta dopo cinque anni, che era a posto con permesso di soggiorno, tutto in ordine e via dicendo adesso, e tornava con un sorriso dicendo, ho visto i miei, e dice, è stato bellissimo. Ecco, io credo che questa cosa qui ti regala talmente tanto che dici, va bene. E forse è anche un po' il motore per cui poi certe cose funzionano, no? Esatto. Perché viene, perché appunto nascono le relazioni tra Amin e i cuochi, nascono poi le relazioni tra voi, delle associazioni, delle istituzioni, perché poi questa è la miglior moneta che abbiamo per farci pagare questo tipo di iniziative. Assolutamente, la parola chiave è relazione. Cioè noi non dobbiamo lavorare come tanti soggetti separati, anche perché in questo modo non si riesce mai a raggiungere veramente la persona. Perché il segreto di questo modo di lavorare è che è centrato sulla persona. Quindi è disegnato per ogni persona. E poi, come si diceva prima, l'obiettivo principale è quello di portare le istituzioni, portare i servizi in ogni quartiere. Ad esempio, ieri noi abbiamo fatto un Recruiting Day nella sala consigliare del municipio. Quindi circa una sessantina di persone hanno potuto fare un colloquio con una società che doveva assumere, in particolare si trattava di un contact center, e semplicemente iscrivendosi, insieme noi e AFOL, la rete lavoro e AFOL, hanno potuto fare un colloquio di lavoro, che sappiamo che è cosa complessa. Anche perché la malita, prima mi dicevi che in questo caso parlavamo di giovani, ma non solo. No, assolutamente. Ad esempio c'è il grande tema degli over 50, di quelli che insomma gli manca magari anche pochi anni in realtà per le pensioni, ma si ritrovano a dover cercare lavoro. È assolutamente, direi, uno dei temi trascurati, ahimè, piuttosto trascurati, ma è un tema molto forte, perché oggi per l'obsolescenza tecnologica, per la trasformazione del lavoro, noi abbiamo sempre più persone che hanno una competenza, hanno una professionalità, che però purtroppo risulta poco spendibile sulle attuali esigenze del mondo del lavoro. Ed è, noi stiamo lavorando molto con queste persone, perché prima di tutto c'è un problema di supporto psicologico. Perché se io ho 50 anni e mi ritrovo fuori dal mondo del lavoro, ho immediatamente una situazione di depressione. Quindi noi lavoriamo molto con loro dal punto di vista motivazionale e dal punto di vista di accompagnamento verso il cambiamento. Chiarissimo, municipio 5 c'era un tale Alessandro, che poi si è fatto chiamare Mahmood, che invece ha fatto una certa strada, no? Sì, è divertente perché diciamo che lui ha iniziato a Musicopoli, che era una scuola di musica che era sotto il vecchio municipio, quando c'era ancora il consiglio di zona, il consiglio di zona 15 allora. Ma scherzavamo prima, strabattiato e lui, voglio ricordare che anche Mattiato, per esempio, veniva, sembriamo il centro del mondo, il municipio 5, a mangiare lì da Claudio Sadler, che è proprio in Nappa e quindi si incontrano. E allora abbiamo parlato di Mahmood, andiamo ad ascoltarlo appunto con la sua Ratatà. Franco Mattiato, centro di gravità permanente. Mattiato l'abbiamo scoperto quindi essere anche, era avventore anche. Sì, veniva sempre da Sadler, quindi era uno dei fondatori di Nappa. Questo amore per il naviglio, questo amore chissà. Ma sai quello che quel naviglio... Forse per la buona cucina, semplicemente. Sì, no, ma ti dirò che mi fa molto ridere perché ormai ho i miei anni come si vede dalla mia barba bianca. Però quando ero un ragazzino, e quindi anni 60, io mi ricordo che mio papà mi diceva arrivano i milanesi in gita e arrivavano lungo il naviglio queste macchine che si fermavano in queste trattorie dove si mangiava pane e salame, si suonava la chitarra e lì ci sono stati, voglio dire, mi ricordo dai gatti che andavano sul tetto a suonare Gatti Vicolo Miracoli, a Cocchi Renato che era una coca fallata, quindi questi che creavano queste serate col pinza che suonava e la gente che arrivava. E alcuni di queste trattorie si sono trasformati anche in ristoranti di punto di Nappa del territorio fatti da giovani, che è divertente questo passaggio di consegna. Mi raccontate che le cose se si mette funzionano, però quanta fatica chissà, no? Quanta fatica e quanta rabbia ogni tanto, adesso esce l'agitatore che c'è nel mio nome, nel senso che si fa una fatica incredibile a superare ogni ostacolo, perché nonostante questo buon rapporto che io adesso ho con il Municipio 5, non so, solo per avere il permesso per uno di questi ragazzi che sono minorenni, che derivi al lavoro, che devi trovare il lavoro a 17 anni, 364 giorni, se no gli devono tornare a casa loro perché diventano maggiorenni. Solo accompagnarli in questura perché abbiano il permesso di soggiorno e l'abitazione, spesso li ospitiamo noi a casa nostra, noi volontari, per avere questa cosa. Un problema che non ti dico sulla burocrazia, perché ognuno non vuole mai pigliarsi le responsabilità. Ah beh, questa responsabilità è un tema che spesso tocchiamo ed è uno dei grossi temi che rallentano poi tutto quanto. Ma la domanda però a quel punto è, chi te lo fa fare? Amin che torna e sorride perché ha visto i suoi. Cioè questo ti dà una carica che io ieri sono partivo e avrei fatto chissà che. Cioè la carica umana che ti arriva è enorme e non ha comparazione. Non ho né stipendi né niente, ma credo di essere l'uomo più ricco del mondo in questi momenti. Ecco, Amelita, invece il municipio, ultimamente, nell'ultimo anno soprattutto, mi sembra di aver visto che tutti i municipi in realtà, incominciano ad essere un pochino presi più in considerazione dal, chiamiamolo potere centrale, passami questo termine. C'è ancora però tanta strada da fare, nel senso che veramente i municipi, io l'ho sempre detto, qui in questa trasmissione lo diciamo spesso, dovrebbero essere i primi nostri interlocutori e non solo l'ufficio reclami dove andare a dire le cose che non funzionano, ma anzi, quelle con cui fare, costruire. Il mio sindaco della mia zona, del mio municipio, dovrebbe essere appunto il presidente del mio municipio. Non è ancora così, è ancora un po' difficile. Però una cosa forse sta cambiando, no? Sta cambiando perché ci si sta rendendo conto che il municipio è lo snodo della città e soprattutto si sta facendo molta mente locale sulla necessità di avere un'economia di prossimità. Soprattutto dopo il Covid, molte persone hanno ritenuto che avere una qualità della vita accettabile vuol dire anche non spendere due ore al giorno per spostarsi per le varie attività lavorative e quindi direi che a tutti i livelli si è fatta mente locale sulla necessità di avere le attività produttive distribuite sul territorio ma con un'attenzione sulla possibilità di mettere in comunicazione i posti di lavoro e chi deve recarsi al posto di lavoro in un tessuto di economia di prossimità. Sappiamo che sono stati lanciati tre bandi per l'economia di prossimità dal Comune di Milano e per quello che riguarda l'attuazione di questi bandi il municipio è l'elemento centrale di coordinamento, di proposta sia per quello che riguarda le attività commerciali che l'economia civile che i cosiddetti spazi ibridi, cioè quegli spazi dove abbiamo sia attività commerciali che attività di intrattenimento e così via. La parola chiave poi che unisce Fabio, le istituzioni e tutte le cooperative e la parola chiave è comunità perché noi dobbiamo superare una visione individualistica della società e questo è una necessità anche economica, non è solo una necessità morale o sociale, è anche una necessità economica. Quindi l'importante è che volontari come me, come Fabio, si uniscano e si crei un senso di comunità che può portare avanti lo sviluppo dei territori e lo sviluppo delle persone. Questo è fondamentale, lo spirito di comunità, le relazioni, come dicevi prima, torniamo a parlare di quello. È più difficile, è meno difficile creare queste relazioni su questo territorio adesso, prima. Il tuo curriculum che raccontavi prima è dannata, quindi poi hai visto l'evoluzione anche. Diciamo che prima di tutto devono essere una comunità di relazioni tra persone che si devono anche divertire. Io dico sempre che dobbiamo, scherzando, dobbiamo finire con una bottiglia di vino perché nascono le idee e nasce anche il momento di stare bene assieme con le persone con cui stai facendo delle cose. Poi arriva la rabbia perché tu per avere un permesso devi metterci otto ore e qualche palazzinaro per fare la sua casa ci metti dieci minuti. Va bene, allora dopo ci racconti invece come poter fare se non sei un palazzinaro, va bene Fabio. Oh yeah, i blur con Song 2. Allora Fabio appunto l'abbiamo messa perché tu hai lanciato la bomba quindi andava bene così. Perché dici, a volte poi per fare delle cose ho chiedi mille permessi, poi invece mi costruiscono il bosco orizzontale e tra l'altro ci levano la ricicleria che noi in municipio 5 adesso. Fortunatamente poi anche qui interviene il municipio, il Buon Natale Carapellese che tratta con ansa e fa una ricicleria inventata in fondo al nostro municipio dove si può andare perché altrimenti dovevamo andare all'oggettina dall'altra parte e poi abbiamo, ne parlavamo prima, abbiamo uno splendido borgo che è del nostro municipio che è Chiaravalle e che ti fanno lo stadio. E su questo so che il municipio si sta muovendo. Il municipio sta, il municipio sta. Non è che posso dire, sono riuscito a fare, alle 840 si potrebbe incazzare, sono riuscito a fare incazzare tutti, pur i monaci. Questa cosa quando i monaci si sono ancora detto vabbè è veramente il massimo. Il municipio si è molto attivato, tanto è vero che sollecitando è riuscito ad avere anche un finanziamento di 30 milioni proprio per quello che riguarda lo sviluppo dell'area di Chiesa Rossa. Quindi sicuramente il municipio ha questa visione dei problemi delle persone e della realtà del territorio che è fondamentale. Ovviamente noi siamo nati come Rete Lavoro 5 nel Municipio 5, ma l'obiettivo è far sì che tutti i nove i municipi abbiano una loro rete e che tutti insieme si possa fare pressione sui giusti livelli istituzionali perché si muovano promuovendo leggi, promuovendo facilitazioni normative, promuovendo quelle che sono le fluidificazioni e le mobilitazioni e smobilitazioni della burocrazia che sono indispensabili. Quindi sicuramente l'obiettivo è quello di creare una mentalità che metta appunto il... per quello che ci riguarda sicuramente noi lavoriamo molto sulle professioni, sulle attività imprenditoriali, sul lavoro e quindi è quello che è il nostro focus primario. Però questo vale per tutte le tematiche, vale per la casa, vale per la mobilità, vale per il verde. Il verde è importantissimo perché ci sono tantissime associazioni sul territorio che si occupano di presidiare e curare il verde, vanno messe in relazione e avere un costante rapporto con gli assessorati in modo tale da preservare i boschi esistenti e crearne di nuovi. No, se mi permetti... Vedevo la mano di Fabio chiedere... No, è anche un problema però di comunicazione perché vorrei che mi spiegassero perché la biodiversità del verde nelle periferie non si taglia l'erba per mantenere la biodiversità e in centro la biodiversità non c'è e tagliano l'erba. Forse vogliono bene a noi quartieri un po' meno periferici e ci lasciano bene. Ma io dico la cosa è semplicità, praticità e facciamo le commissioni e queste cose. Esempio pratico, le case. Noi abbiamo un problema di questi, non solo dei ragazzi che inseriamo noi, ma io parlo delle persone che lavorano, che guadagnano anche 1300, 1400, 1500 euro, possono avere uno stipendio decente, che non hanno la fortuna di avere una casa e devono spendere 800, 1000 euro per avere un affitto. Allora, mi chiedo come sia possibile che ci sia questa situazione con delle case popolari sfitte. Allora, quando io ho provato a parlarne perché sono testone con i grandi megapensatori, mi dicono che molte di queste case sono sfitte perché non sono agibili. Allora dico bene, bene che il comune, il municipio, chi volete voi, andasse a parlare con le banche, facesse dei finanziamenti a dei ragazzi, anche che hanno un monoreddito, che possono avere, non gli ultimi, ma i penultimi in questo caso, le povere partite IVE, che facciano loro un finanziamento, che possono avere un mutuo e possono pagare la rimessa a posto della loro casa. Non si può dare il patrimonio cittadino, mi hanno risposto, diamogli l'incomodato d'uso per 10, 15 anni, 20 anni, uno con un piccolo affitto si mette a posto la casa, recupera delle persone, garantisce anche che nelle case popolari ci siano delle persone monoreddito che lavorano e risolvi. Semplicissimo. Mi spiegano, mi spiegate perché non lo fanno. Perché non è mai stato fatto, a volte ti rispondono così, quindi non è facile. Perché ci vuole appalto, perché bisogna fare il bando così. E ritorniamo, per invece tirare su dal garage i 64 piani, basta una piccola scia. In un blocco sono da 20 piani a 64, ogni canzone che mandiamo aumenta anni 30 anni. Siamo talmente esasperati. E allora sentiamo quanti piani diventeranno dopo aver scoperto Chade per sempre, per sempre, mai. Chade per sempre, mai, insieme a Federica Carta, alle 8.50, qui su Cristal Radio, Good Morning Milano. Siamo quasi in chiusura, chiudiamo quindi allora il mondo del lavoro, il lavoro Municipio 5, un'azione continua però. Sì, sì, un'azione continua perché l'obiettivo che noi abbiamo è quello di creare una nuova fase di Milano. Riteniamo che una certa fase si sia chiusa, si sia chiusa anche positivamente perché in fondo Milano è diventata una grande città internazionale. Ma adesso questa grande città internazionale deve diventare una città che ascolta e risolve i problemi dei quartieri e dei cittadini. Quindi noi riteniamo che sia iniziata l'epoca della costruzione di questa relazione, della costruzione della città policentrica che mette sempre più al centro della propria azione i bisogni delle persone di cui noi abbiamo parlato oggi. Quindi il lavoro, la casa, gli spostamenti e per chiudere in bellezza la felicità. Noi vogliamo che le persone si trovino bene nel nostro territorio. Quello è fondamentale e si cerchi sempre di trovare il feel, la felicità interna lorda come facevano nel puntando perché ce l'abbiamo studiata lì. Fabio invece per essere felici si può fare anche festa volendo? Si può fare anche festa, qui ritorna il Fabio sociale basta l'agitatore. Io invito tutti quelli che vogliono venire il 29 settembre facciamo la festa di Napa e lo trovate sui social dove volete... Ah, adesso facciate l'onore del compleanno di Berlusconi? Sì, no, esatto, per quello. No, sarà una festa in cui tutti i ristoratori, anche ristoratori di un certo tipo, daranno dei piatti a prezzi popolari. Poi ci sarà la funk che suonerà, arti si distrada, donne e madri che faranno i suoi spettacoli per i ragazzini. Insomma, un quartiere che si mostra, che si diverte, che canta, che brinda, che beve, che balla. Beh, forse è proprio questo, no? Quello che diciamo, le relazioni. Sì, le relazioni. Le relazioni, la comunità, che vuol dire risolvere i problemi, ma anche stare bene assieme. E allora davvero, grazie mille a Malita, grazie a voi e grazie a tutti per l'ascolto. Ma grazie a te, appunto, quindi saluti anche, porti i nostri saluti al Municipio 5 e poi grazie a Fabio Vergottini, agitatore sociale, ma in realtà poi abbiamo capito che sei una bravissima persona. Ma sì, 29 settembre, festa di Nappa. Com'è che dicevano, mi disegnano così, però in realtà è una brava persona, dai. È anche facile da ricordare 29 settembre, perché ci ricorda qualcosa. 29 settembre, seduto in qualche caffè, io aspettavo te, quindi vieni la nostra festa. Guardavo il naviglio passare. Esatto, quindi tenetelo presente. Va bene, allora andiamo con la nostra sigla. 8 e 53 minuti, quasi 54, volge al termine questa puntata di oggi, mercoledì 11 settembre, di Good Morning Milano. Dopo di noi, alle 9.05, dopo il giornale radio, dopo Luce Verde, chi c'è? C'è lui, Ambrogio Curti di ConsentiQuesta. Quello stesso Ambrogio che avete ascoltato questa mattina qui con me nella prima ora. Bene, adesso è pronto lì, davanti al mixer, davanti al microfono per raccontarci la musica e come ce la racconta lui, mai nessuno. Senti questa, alle 9.05. Se invece volete riascoltare tutto quello che è successo in questa puntata o nelle puntate precedenti, c'è il nostro sito di internet goodmorning.milano.it, c'è anche il podcast su Spotify ed Apple Music, c'è anche YouTube, c'è anche domani mattina la diretta dalle 7. Eh sì, tutte le mattine, dalle 7 alle 9, in diretta su Crystal Radio. Siamo qua, pronti raccontarvi la città, raccontarvi tutto quello che succede nella città metropolitana, quello che succede in Milano, come vi dico sempre, quello che fa grande la nostra città. E le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Ambrogio, di Amalita, di Fabio e anche dell'altro Fabio che sarei io. Codivate alla regia da Ginevra e Beatrice, quindi grazie mille a tutti, ci sentiamo domani, sempre qui in diretta. Good morning Milano!